Canicattini-Bagni, vicenda e tributi, botte e risposta al vereno tra opposizione e maggioranza. Una vicenda paradossale che rischia solo di aumentare lo scontro all'attenzione sociale e politica a Canicattini-Bagni a causa delle dichiarazioni e alle notizie false e strumentali diffuse dai consiglieri di minoranza Alessandro Cultrera, Alessandra Amenta, Rita Castellino e Livia Uccello sulla vicenda della mancata approvazione in Consiglio Comunale della loro proposta di adesione alla definizione agevolata delle entrate comunali non riscossa a seguito di ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi. Così il sindaco di Canicattini-Bagni, paolamente all'assessore dei tributi, Marilena Miceli, accusati insieme ai consiglieri di maggioranza di non fare gli interessi dei cittadini che risultano morosi e oggetto di invio di cartelle di riscossione per non aver approvato il regolamento di adesione alla definizione agevolata in quanto, come già evidenziato in Aula, lo stesso non può trovare applicazione nel regime delle entrate tributarie non riscossa del Comune di Canicattini-Bagni, avendo la normativa sui tributi locali previsto dall'Istituto dell'avviso di accertamento esecutivo quale strumento funzionale al recupero coattivo del credito insoluto. Avviso di accertamento, come dichiarato in Consiglio anche dalla dirigente del settore tributi, nonché il connesso provvedimento di erogazione delle sanzioni che acquistano efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento. Rigettiamo pertanto, concludono il sindaco Paola Mente e l'assessore Marilena Miceli, le mistificazioni e le accuse gratuite e non veritiere di questo gruppo di minoranza che senza valutare il peso delle loro false dichiarazioni continuano a cercare e ad alimentare lo scontro piuttosto che il confronto democratico.